Con il primo alzabandiera e le note dell'inno di Mameli, dopo dieci anni è stata riaperta la caserma dei carabinieri a Fontanaliri. Dalla 2014 la stazione faceva riferimento a quella della vicina Arce, a causa di problemi strutturali dell'edificio che la ospitava. Alla riapertura si è giunti anche grazie all'impegno dell'amministrazione comunale che ha messo a disposizione lo stabile della ex scuola elementare ormai dismessa, concesso e incomodato d'uso ai carabinieri. Il comune si è fatto carico dei lavori per la sistemazione della nuova caserma, realizzando una struttura antifismica di quarto livello attraverso una serie di fondi della regione Lazio. A tagliare il nastro in località San Salvatore, sulla provinciale per Arpino, è stata la professoressa Santina Pistilli, presidente del centro studi Marcello Mastroianni. Nel suo intervento, il prefetto Ernesto Liguori ha sottolineato che la riapertura della caserma dei carabinieri a Fontanaliri è un segnale forte per il territorio nell'ottica della vicinanza dello Stato alla comunità e anche di quello di una maggiore sicurezza reale e percepita. Per il generale Andrea Taurelli Salimbeni, comandante della legione Carabinieri Lazio, Fontanaliri si è riappropriata dei propri carabinieri perché, dice, i carabinieri sono proprietà della comunità in cui prestano servizio.